Ho avuto alti e bassi. La mia parte di ostacoli e venti contrari. Ora sono qui davanti a voi. Quello che vedete è un corpo scolpito alla perfezione. Un paio di gambe forciate per sconfiggere le leggi della fisica. E una mente in grado di dominare la più epica delle spaccate. Grazie a tutti. Grazie a tutti.